Io voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si sveglia alle sei e mezzo del mattino e si ritrova il pomeriggio con tre, quattro compiti da dover fare senza poter fare sport, senza poter fare niente. Ve la dovete vedere voi. Collaborazione, scuola, famiglia. E questa è la collaborazione che fate voi alle famiglie. Questa categoria fa schifo, punto. Sono pochi quelli che si salvano.